Oggi di nuovo siamo a tavola, quella e quella di prima, è un gioco dopo del primo e del primo secondo piatto che abbiamo mangiato, oggi abbiamo mangiato da Dio. Io siccome sto in dieta mi sono fatto tre piatti di macrononi, mi lasagna, mi sono fatto due bolle paesali, ho preso un filetto, non ho detto, dei bolle paesali, che bello. Mia sorella ha cucinato da ieri, ha fatto che 20 persone ha cucinato, con detenzioni e amore. Io mi morivo fuori di fame, ho portato un po' e penso mangiare. Però oggi ho portato un po' di vino, oggi sono felice e contento perché sono a casa di mio padre, noi fanno in famiglia, noi fanno insieme, siamo contenti e felici. Una cosa che mio fratello lui dice, lui era l'orticaria che già non può parlare, si, avete capito bene l'orticaria, che fa? Vedi che fa l'orticaria allora? Quando sta parlando Luigi dice, io voglio parlare, fermo, perché? Mi raffreddo, che è l'orticaria quello è? Un po' l'emozione, un po' l'orticaria, ma mi sapesse che non è l'orticaria, no. E' più dell'orticaria. Che cos'è l'orticaria? Eh, spettacolo, eh, sto parlando, no. L'orticaria è quell'erba che è fatta di cuore con dei spigoli, un po' partito, che punce. Però, punce ma non funce di grattare, poi, grattare, grattare. Lui, lui dice, fratello, pensa, dice, adesso, se mecca a pensare quella roba che gratta, io mi gratta. E' quello l'orticaria. E' un rattamento tale. E' un rattamento di gratta-gratta. E non vi dico di più, eh, 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 se io ci penso, beh, bacchi, io sono pensatore, e uno che pensa è pensatore. Non è pensatore che è pensatore, eh. Come lo accerete, non è giusto, 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 non è giusto. Non è giusto, non è giusto, non è giusto, non è giusto. E stavo dicendo, Luigi, di una parola, fratello. Ha detto non può parlare, non può parlare. Perché? L'orticaria. Luigi, dice la parola. Ha un affanno, l'affanno dica, c'ha un respiro corto che non può respirare, dice, affanno. Ma l'affanno è diverso. Luigi, dici qualche cosa. Che cosa dici? Ah, assolutamente. Dato l'ossigeno a Luigi, parlo, Luigi. Che dice? Che devo dire? I italiani facciano in grattura perché non può capire. Dimmi, Luigi. Sì. Il pappagato, sì. Dimmi, dimmi. Ma parli, dici qualche cosa. Lui ci aveva fatto i pesanti, ci aveva fatto cose bellissime, in tutto il mondo, fatto una bella elogia. Ma poi lei che si può fare così. Lui, noi...